Here we go! Ragazzi, è fatta, è fatta, prima cosa mettete mi piace al video, prima cosa da fare, mettete mi piace subito al video, è fatta, Sule sarà un nuovo giocatore della Roma, Fabrizio Romano l'ha appena confermato, quindi andiamo sul sicuro con Fabrizio Romano, che è uno dei pochi giornalisti sui quali io mi fido quasi ciecamente, quindi fatta per Sule alla Roma. L'importo sarà pari a 26 milioni di euro, parte fissa, più 2 milioni di bonus, parte, cioè bonus, facilmente raggiungibili, più altri due difficilmente raggiungibili, più un 10% sulla futura rivendita, e io sento già le polemiche, le proteste, le contestazioni, io non credo di fare video sull'ufficialità di questi due affari, se li faccio adesso poi nel caso in cui dovessero ufficializzarli, e dovessero essere queste le cifre ovviamente, perché alla fine il voto della loro carriera alla Juventus, sia di Sule sia di Uisen, sarebbe senza voto di fatto, quindi non sto neanche qua a rifare il video nel caso. Lo faccio adesso, e dico già adesso quello che penso, poi aspettando l'ufficialità, sperando arrivi a questo punto domani. Allora, io sento già le polemiche, e ripeto, se saranno queste le cifre dovessero essere diverse, allora lì farò un video sull'ufficialità, ok? Allora lì farò un altro video, dipende appunto dal contesto, da quanto in meno, quanto in più e quant'altro, però staremo a vedere. Allora, partendo dal presupposto che, sì, non convince tantissimo questa formula, sono d'accordo con voi, ma attenzione, valutiamo bene l'operazione. 26 milioni di euro più 2 di bonus, uguale presenza molto probabilmente, quindi saranno 28 quasi sicuramente, quindi 2 milioni in meno e basta rispetto ai 30 parti fissa che volevamo. Più 2 difficilmente raggiungibili, probabilmente saranno, non so, la vincita, non so, no, impossibile, vabbè, la vincita dello scudetto o riguarderà, credo, i gol fatti, gli assist, queste cose qua, non lo so, vado io un po' a indovinare così, a tentare di indovinare. Più il 10% sulla futura rivendita, il che cosa significa? Che se questo giocatore qua verrà venduto alla stessa cifra più o meno che l'abbiamo venduto noi, facciamo esempio, 30 milioni, noi prendiamo 3 milioni. Ok, 3 milioni. E uno dice, ma cazzo, ma sono pochi, perché alla fine arriveresti, senza calcolare i due difficilmente raggiungibili, arriveresti a 31 milioni. Ma se un giocatore viene ceduto a soli 30 milioni, cioè alla stessa cifra con la quale è stato pagato, significa che non ha fatto questa grandissima carriera alla Roma, questo gran salto da avanti. Quindi probabilmente la Juventus sotto quell'aspetto là ci ha guadagnato. Ok, questo è il senso. Questo è il senso. Ci ha guadagnato sia la Juventus sia la Roma. Cedendolo, faccio esempio, a 30 milioni di euro, è ovvio che poi se sul re dovesse essere ceduto a 40 milioni ci guadagnerà più la Roma sicuramente, per carità. Ok, però in questo momento qua, storico, la Juventus ha più bisogno di, non certezze in generale, perché è giusto puntare sui giovani, ma la Juventus ha fatto una scrematura. Cioè, parliamo di Ildiz e parliamo di Aziz. Sono i due giovani sui quali la Juventus si vede e si nota, punterà. Anche se dovesse essere venduto su lei a 40 milioni, significa che non è che abbia fatto questa grande carriera. Cioè, da 30 milioni per far sì che la Juventus rimpianga questa cessione, dovrebbe poi valutarne, diciamo, dovrebbe essere poi valutato 70 milioni poi. Allora lì dici, cazzo, abbiamo fatto una follia. No, a venderlo. Così, per come la vedo io, anche se dovesse essere seduto a 40, non è che mi strappi i capelli io, con tutto rispetto. Anche perché poi, vabbè, ti verrebbero 4 milioni a te, ma vabbè, al dia di questo. Io, allora ripeto, scettico sì, scettico sì, ci può stare, scettico sì, ci può stare. Ma forse il video sull'ufficialità lo farò comunque per dare il voto all'operazione. Adesso vediamo, perché non la do adesso fino a che non ci sono le cifre ufficiali. E scettico sì, ci può stare, ci può stare essere scettici perché non siamo arrivati a 30 fissi. Non ci siamo piegati a 90, però. Siamo arrivati a un compromesso. Cioè, piegarsi a 90 significa, loro ti offrono 25 più 4 di bonus, tu accetti. Ok, punto. Invece sono andati, loro hanno alzato di un milione in più, più 2 milioni di bonus facilmente raggiungibili, e si è arrivati alla metà via. Ripeto, per un giocatore che secondo me lo state pompando, più di quanto vale. Ma veramente? Cosa ha dimostrato sulle per valere 40 milioni? Cosa ha dimostrato? Cioè, sarebbe stata un'operazione da 10 e l'avesse ceduto per 40 milioni, eh? Io l'ho detto sin dall'inizio, fin da qualche mese fa. Per me, sulle, se lo riuscirai a vendere anche a soli 30 milioni, per me sarà un grande affare. Ma, per chi seguiva le nostre live e i miei video, lo sa benissimo cosa dicevo di sulle. Quindi questo è il quanto. Comunque, affare fatto, 26 milioni di parte fissa, più 2 di bonus facilmente raggiungibili, più 2 di bonus difficilmente raggiungibili, più un 10% sulla futura rivendita del giocatore a parte la Roma. Questo è l'affare, appunto, che si è venuto a concludere, che hanno trovato l'accordo in serata. Tra l'altro, anche qua, faccio il video stamattina dove sollecito sulle EUs e avevo detto, cos'è che avevo detto? Per me, qualcosa, un'accelerata ci sarà in giornata, così è stato. Sono contento di questo. Però, alla fine, ogni volta che faccio il video prima, con rabbio, con gli sponsor che mi sono comprato la mano, con altre robe, no? Poi accelerano il giorno dopo o il giorno stesso. Vabbè, meglio così, meglio così. Adesso speriamo che con questi soldi si vada poi a fare l'affondo definitivo per Coop Minus. Ripeto, un giocatore che a me non piace, non mi dice niente, ok? Ma se lo vuole Motta, perché per lui è fondamentale per il gioco che vorrà andare a fare. Io ascolto Motta, punto. Poi, se dovesse fare male, si criticherà anche Motta che ha scelto quel giocatore là. Attenzione, perché da questa parte c'è un'estate intellettuale, a differenza da altre parti. Quindi, attenzione. Quindi, detto questo, ragazzi, questo è quanto. Quindi, sole, Roma, Juventus. Anzi, Roma, Juventus. Roma, sole. Affare fatto. E adesso si attende solo l'ufficialità e si attendono i comunicati ufficiali, vedendo effettivamente le cifre ufficiali quali saranno. Perché poi di solito la Juventus, nei comunicati, tende sempre ad abbassare la cifra. Ecco, là mi romperebbe le balle. E per questo dico, magari il video lo faccio comunque all'ufficialità. Perché se saranno 25 più 4, come si diceva all'inizio, allora lì... Poi bisogna vedere se ci sarà sta futura rivendita anche con 25 più 4. Cioè, dipende appunto poi dal... se cambierà qualcosa dei comunicati ufficiali o se effettivamente sarà come ha riportato Fabrizio Romano. Allora, dovesse essere così, vi spoilerò, dovesse essere così, dovesse essere così, probabilmente il video non lo faccio neanche, ve lo spoilerò adesso. Dovessero invece cambiare le cifre, vi farò un altro video sull'ufficialità e all'ufficialità. Dovesse essere così, per me è un'operazione da 7. Ok? Da 7. Né da 10, né da 5. Per me è da 7. Ok? Punto. Poi dite come volete, perché comunque non è che arrivi a toccare i 40, no, con i bonus, con la rivendita e quant'altro, però comunque non ti sei piegato a 90, per come lo vedo io. Per me è da 7. Dovesse essere questa la cifra finale. Ditemi la vostra, cosa ne pensate, che voto dareste qualora fosse così. Altra cosa, ho bannato un altro, perché poi qualcuno mi dice, non c'è un video dove non... No, ragazzi, io non posso, uno mi è venuto da scrivere, sì ma li abbiamo svenduti. Ma cosa stracazzo hanno dimostrato, questo qua l'ho bannato. Cosa stracazzo hanno dimostrato, Hueser e sulle per essere considerati svenduti. Uno ha 20, probabilmente l'altro ha 28, minimo. Ma di che cazzo parliamo? Ma voi veramente? Non è che tutti, perché uno è giovane e allora è un fenomeno. Io sono sempre per la meritocrazia e se un giovane è forte va fatto giocare. Cosa che con Allegra ad esempio non accadeva come con Ildiz. No, ok. Ma se un giocatore non è forte, sapete bene cosa pensavo e penso di Sule. Non mi ha mai impressionato. Vi ho detto i due giocatori che io avrei tenuto. Ildiz e Barrenicea. Barrenicea poi è stato girato per colpa di McKellen sotto quella spatola. Però erano questi due giocatori qua che io avrei tenuto. Gli altri per me sono tutti sacrificabili. Anche Hueser che comunque a me era piaciuto tra virgolette per alcune cose. Poi l'ho visto un po' alla Roma. Alcune cose fatte bene, altre un po' meno bene. È giovane, va detto. È molto giovane lui. I difensori sappiamo che escono a 25, 26, 27 anni. Avremmo avuto la pazienza di fare il... Cioè probabilmente per il reparto difensivo è l'unico reparto nel quale una grande squadra deve andare a prendere il giocatore formato. Perché ci vuole tempo. Mentre negli altri reparti poi prende un giovane a aspettarlo. Perché comunque ci vuole meno tempo per diciamo formarlo. Per il difensore è un'altra cosa. Come per il portiere. Sono due ruoli completamente diversi. Quindi io credo che avessero, più che altro, che abbiano voluto certezze in alcuni ruoli e scommesse in altri. E per me ci sta, per me ci sta. Vabbè comunque ditemi la vostra sotto, mi raccomando nei commenti. Io ripeto le critiche ci stanno, i giudizi personali ci stanno, il disfattismo e il catastrofismo è prevenuto. No. Quelli li banno. Ripeto ci sono altri canali dove si fa finta di essere, nei quali si fa finta di essere juventini. Per sparare merda contro la Juventus. Qualsiasi roba che fa la Juventus, qualsiasi roba che fa la Tiago Motta. Perché il loro amore allegri se n'è andato. Ed è stato cacciato giustamente da Giuntoli già da febbraio. Gli stava remando contro. E ci mancherebbe anche altro. Solo per questo. Andate in quei canali là dove si spara merda dalla mattina alla sera. Peggio dei peggiori canali anti-juventini che troviamo su YouTube. Andate là. Ciao a tutti e fino alla fine.